Grazie, Massimiliano Valeriani. Oggi, il giorno dopo il voto, è una giornata di festa per il centro-sinistra o comunque le attenzioni sono puntate sul dato dell'affluenza che è un dato preoccupante? No, oggi è un giorno di grande soddisfazione. Noi aspettavamo questo momento da cinque lunghi anni, speravamo in un successo. Sicuramente l'entità di questo successo ha colto di sorpresa anche noi perché ha del clamoroso. La vittoria al Campidoglio con Marino, ma anche la vittoria contemporanea in tutti quanti i municipi della città. Il sindaco, sappiamo tutti che il ruolo del sindaco è quello di essere un po' il garante di tutti i cittadini. Ignazio Marino è stato scelto però da meno della metà dei romani aventi diritto. Allora riuscirà in qualche modo appunto a rappresentare un po' tutti i cittadini? Ma io di questo non ho dubbi. Qual è il merito di Marino a suo avviso? Quello di in un momento di crisi dei partiti quello di essere stato percepito, perché poi su quello si è giocato molto in campagna elettorale come un candidato un po' irregolare, slegato dai partiti? Sì, Marino viene percepito come una persona per bene legata più che altro al suo percorso di vita piuttosto che a intrecci partitocratici o di componenti di partito. e questo sicuramente ha giovato in positivo per la sua corsa elettorale. Crede adesso che nella formazione della squadra di governo della giunta di Marino si creerà qualche tensione perché Marino ha sempre indicato di essere in qualche modo un candidato un po' indipendente perciò di voler fare una giunta di tecnici, società civile e di lasciare poco spazio in qualche modo alla politica e ai partiti? Marino è sostenuto dei partiti soprattutto dal suo partito, il Partito Democratico molte favole in questa campagna elettorale di una distanza, di una disaffezione tra il PD e Marino tutte cose assolutamente non vere. Marino è il Partito Democratico, Marino rappresenta il centrosinistra e Marino saprà coniugare le esigenze della sua maggioranza con le esigenze della città, dell'amministrazione quindi attingere a quelle personalità, a quelle competenze che servono in questo momento difficile della vita della nostra città. Quanto poi Nicola Zingaretti in qualche modo è stato l'asso nella manica di Ignazio Marino quanto è stato determinante per la sua vittoria? Moltissimo, la sua personalità ha contato tantissimo sia per costruire la candidatura Marino ma anche e soprattutto per portare a casa questo risultato straordinario e adesso credo che il tandem Marino-Zingaretti viaggerà a una velocità ben diversa da quella che hanno seguito Alemanno Polverini che voi ricorderete da Sindaco di Roma, da Presidente della Regione Lazio hanno batti beccato e litigato un po' su tutto e hanno penalizzato sia la Regione Lazio che la città di Roma. Che stagione di rapporti si apre tra la Regione Lazio guidata da Zingaretti tra il Campidoglio e Ignazio Marino e poi anche i municipi che sono tutti in mano al centro-sinistra? Sicuramente di convergenza e di politiche virtuose perché quando le amministrazioni condividono gli stessi obiettivi utilizzano gli stessi strumenti e fanno più in fretta ad accordarsi, a fare le cose e quindi sul versante trasporti, piuttosto che sul tema dei rifiuti piuttosto che sul sistema della governance di Roma Capitale io penso che nei prossimi mesi il nuovo sindaco e il Presidente Zingaretti avranno diciamo molte convergenze. Grazie. Grazie.